L'ormai tradizionale pedalata amatoriale organizzata dalla CTL e che di volta in volta raggiunge una differente capitale europea, quest'anno punta su Berlino. La manifestazione, che tra gli obiettivi ha anche quello di promuovere il territorio della provincia di Varese e le sue bellezze artistiche, culturali e naturali, è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa a Villa Recalcati. La partenza è fissata per il 1 luglio, proprio dalla sede della provincia di Varese. L'appuntamento ciclistico della CTL è ormai diventata una bella tradizione, ha dichiarato l'assessore provinciale allo sport Giuseppe De Bernardi Martignoni. Questo gruppo di atleti con la passione per le due ruote hanno trovato un modo davvero originale per portare Varese e tutte le sue bellezze in giro sulle strade d'Europa. Quest'anno si va a Berlino, ha concluso l'assessore, con lo stesso entusiasmo delle passate edizioni. Il direttore dell'Agenzia del Turismo, Paola Della Chiesa, ha aggiunto Attraverso l'ufficio stampa di Berlino daremo un supporto organizzativo per l'arrivo del gruppo alla porta di Brandeburgo. Grazie.